Cin cin, dodici anni di canale, dodici anni di canale si festeggiano oggi il 17 dicembre festeggiate con me, donatemi, paypal, enricocapaccio86chiocciogmail.com e comunque link in descrizione festeggiate con me, il vostro donazione per dirvi, grazie Enrico, meno male esiste al mondo uno come te una donazione per te alla faccia di chi è invidioso e che vorrebbe vederti marcire sotto i ponti ragazzi, allora, non so se sia pericoloso, c'è qui un albero a strapiombo su questo forrente che ho trovato ma lo devo fare, mi devo avvicinare per cercare di bere, ora cambio a telecamera frontale, aspettate allora, eccomi qua ragazzi sono stremato, non avete idea quanti chilometri ho fatto per arrivare fin qui ho cercato di seguire con l'udito il rumore del torrente e l'ho trovato devo bere ragazzi, so che non sembra pulitissima ma non avete idea di come ho la bocca impastata, non verrò da 18 ore oramai, non ho più saliva non so se si vede le occhiaie, come sono messo allora, bottiglia completamente finita ne avevo due, una l'avevo finita, l'ho persa, l'altra per fortuna così riesco a farmi un pochettino di scorta d'acqua al minimo ah, è il 17 dicembre oggi ragazzi auguri, auguri, auguri per 12 anni, 12 anni di canale 12 anni e li festeggiamo con un bel cin cin un bel cin cin bevendo acqua di torrente disperso nel niente bevo, un po' d'acqua, riempio di nuovo la bottiglia e vado di nuovo lontano da qui perché mi hanno detto che è pericolo stare vicino al fiume cin cin per festeggiare i 12 anni del mio canale che ne avrebbe mai di 12 anni fa che dopo 12 anni mi sarei trovato da solo in mezzo a nulla, lontano dalla civiltà bene, la verità a volte è più sorprendente che l'immaginazione e la fantasia allora, proviamo un po', spero non dovrebbe essere pericoloso anche se l'albero è proprio a strapiombo sull'acqua questo mi fa dire che normalmente l'acqua non arriva fin qui ma con questi giorni di pioggia è pienissimo allora, aspettate che devo cambiare mano se no, non essendo mancino non riesco a riempirla con la sinistra allora, proviamo un po', proviamo un pochino 12 anni di canale infatti è una bella donazione paypal per festeggiare i 12 anni insieme come se fosse il compleanno di un qualcosa che per voi è significato tanto si è significato tanto perché non gliene frega niente allo spazio ma se cazzo sei gelida ma non avete idea se sei gelida l'acqua io non riesco a leggere i commenti sui video di youtube riesco a caricarli dopo ore e ore e ore non fa questo quando avrà online però non riesco poi a riaprirli, vederli e guardare i commenti però stranamente gmail funziona quindi se mi fate donazioni paypal è riocapaccio.com ho comunque il link in descrizione le notifiche di chi mi ha donato e mi arrivano se volete festeggiare con me i 12 anni grazie, mi anticipo e poi vi ringrazierò magari più avanti quando tornerò al città allora, vediamo un po' Dio mio cazzo è troppo torbida ma forse perché è troppo vicino è troppo vicino alla riva dovrei prendere un po' più in là tipo là forse cazzo che scemo che sono qua è tutta fangosa vaffanculo ma vabbè però forse è solo un effetto perché quando la faccio scendere sembra acqua normale è che insieme all'acqua ci va un po' di fanghino avrei dovuto prendere su come si chiamano non i filtri quei robi per setacciare non l'imbuto vabbè in cosa tipo con le piccole entrate così il fango non sarebbe ora provo un pochettino più lontano tipo qua mi scordo scusate scusate se rischio tanto non rischio la vita perché sembra non lo so sarà profonda sta acqua normalmente l'acqua non arriva qua guarda là è caduto anche un albero non so se lo vedete mi voglio allontanare perché non vorrei che franasse tutto qua cerco di metterla qua giù in fondo in modo tale è qua un po' più lontana dalla riva dal fango iniziale quindi magari è meglio non avete idea di quanto non avete idea di quanto è fredda questa cavolo di acqua è incredibile sarà l'acqua di 10 gradi magari secondo me siamo sotto i 5 5 mi sembra un po' meglio ora mi sembra leggermente meglio ovvio un po' fangosetta lo sarà lo stesso non è che possiamo aspettarci l'acqua so che arrivano nei commenti i geni no no ma non puoi bere dell'acqua così devi bere perlomeno dell'acqua bollita ho perso l'accendino ho perso l'accendino quindi altro che acqua bollita è un po' meglio è un po' meglio forse se la agito forse è un po' meglio non ce la faccio ragazzi che è cacca di cinghiale questo non so se si vede ci voleva ragazzi so che qualcuno di voi ti va che schifo ma ci voleva ora se arrivo gli stronti che mi dicono no non la stai bevendo cazzate varie mi incazzo davvero guardate se non la bevo guardate eh vaffanculo all'essere viziati ora la riempio di nuovo tutta fino al cima perché non l'avevo riepita tutta e vado con la bottiglia piena quant'è un litro e mezzo o due? uno e mezzo cazzo avevo dovuto prendere l'altra pazienza avevo dovuto prendere da casa la bottiglione da due litri pazienza appoggio qui io voglio salutarvi per bene e niente stavo dicendo vaffanculo a questo mondo viziato in cui c'è gente non è che c'è gente che beve acqua fangosa c'è gente che fa 30 km e festeggia se trova l'acqua non se lo chiede neanche è fangosa non è fangosa è potabile è potabile al 100% al 90% fanno la festa io faccio la festa qui per i 12 anni di canale c'è gente che fa la festa perché ha trovato un po' di acqua stagnante e fangosa e allora forse occorre dimensionarsi e capire che bere l'acqua comunque di un fiume a mio avviso non dico incontaminato perché non siamo a 5000 metri però un po' stufiamo quindi non è come l'acqua che ne so del gange o l'acqua del bo del po o dell'arno è un'acqua bene o male è solo un po' tobile perché c'è terra fango ma non che oggi siano sostanze tossiche più o meno non particolarmente elevate e niente io vi saluto cin cin con me facciamo un cin cin uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici altri dodici di questi anni alla faccia di chi ci odia di chi ci vuole male noi contro loro noi contro loro noi la parte più bella dell'umanità noi contro la parte più cattiva dell'umanità siamo praticamente nessuno contro tutti ma ce la faremo con i nostri principi con la nostra spontaneità con i nostri buoni sentimenti cin cin con voi mentre bevo acqua di fiume che ho appena raccolto e ora dopo la sigla vi faccio vedere come l'ho raccolta rischiando la vita cin cin alla faccia di chi ci vuole male alla faccia di chi invidia alla faccia di chi vorrebbe sconfiggere gli altri a suon di violenza verbale non solo alla faccia di chi invidia alla faccia di chi vorrebbe vedermi nella lista dei difunti alla faccia di chi se un giorno e arriverà mi troverò sottoterra verrebbe a profanare la mia tomba lo so che lo farebbe qualcuno di voi verreste a fare del male persino al mio corpo sottoterra alla faccia di chi di chi odia l'amore vince sempre cin cin dodici anni di canale dodici anni di canale si festeggiano oggi il 17 dicembre festeggiate con me donatemi paypal eriocapacci 86chioccio gmail.com e comunque link in descrizione festeggiate con me il vostro donazione per dirvi grazie Enrico meno male esiste al mondo uno come te una donazione per te alla faccia di chi è invidioso e che vorrebbe vederti marcire sotto i ponti senza più energie e gente che mi torturerebbe ragazzi fatemi una donazione alla faccia di chi mi vuole male cin cin auguri a me auguri ai buoni di questa umanità auguri a noi noi contro tutti stoici i veri eroi ciao ciao